Un noir particolare, un romanzo storico fra realtà e finzione con elementi psichedelici. Sullo sfondo, gli anni 70, è una morte misteriosa, quella di Bruce Lee. E cosa c'è davvero dietro quel decesso? È il libro Mission Hong Kong, 1977. Voglio ripercorrere il fatidico giorno della morte di Bruce Lee, 50 anni fa. E per ripercorrerlo devo incastonarlo in una storia di due ragazzi che vanno a Hong Kong a capire se possono riportare in Italia il segreto di questa morte. Voglio dire, qualcuno deve averlo aiutato a morire, Bruce Lee. Da questo io sono partito nel lavoro di scavo di questo libro, ricostruendo l'Hong Kong degli anni 70. Ma perché proprio Bruce Lee? Perché Bruce Lee, prima di Pasolini, è stato un colpo duro per noi ragazzi. Io quando morì, Bruce Lee, avevo 14 anni e mezzo e questo mi dette molto dolore. Poi dopo, quando ne avevo 17, qui a Roma, questa cosa cruenta su Pasolini, e imparai che cosa significa morire e il mistero che ci può essere dietro una morte. Un libro scritto a Berlino da Marco Erler in piena pandemia Covid, un libro con tanti risvolti autobiografici. L'autore, di formazione radicale, si distaccò dal partito diventando poi ideologo degli indiani metropolitani, con il nome di Nuvola Rossa. C'è il mio dialogo con mio padre, quindi un dialogo più immaginario che reale. E quindi c'è di Berlino, c'è Checkpoint Charlie. C'è questa sostituzione che io ho fatto di Berlino sostituendo Roma, cioè Roma dove sono cresciuto da non romano perché sono nativo del nord. La volontà di centrare e ricordare quelli che erano i contenuti ideologici esistenziali del nostro modo di essere creativi nel 77, vale a dire indiani metropolitani. Tra le varie dediche del libro ce n'è una particolare, quella per Francesco Cossiga. Francesco Cossiga in questo caso è il convitato di Pietra, vale a dire di questo libro, perché in realtà è quello che muove i due ragazzi, muove tutta la storia di questa missione a Hong Kong. Qua c'è la dedica a Cossiga quando era ministro degli interni nel 77, noi eravamo i suoi avversari politici, noi giovani.